...di Tonut, che arriva prima del Lituano, poi trova ad andare dietro la schiena, è anche Fortunato, poi un'accelerazione che lascia... ...sulla transizione spaglia Johnson, Tonut può scaricare la sua velocità sul parquet e chiude il costo costa. ...de Nicola ha un blocco cieco che comunque non fa troppo male alla difesa, Tonut in transizione, va da solo e ancora una volta...